Presentata Ticheto, l'applicazione sviluppata da alcuni giovani tranesi per unire in una piazza virtuale le attività commerciali della città. D'intesa, con l'amministrazione comunale, lo staff di Ticheto ha sviluppato gratuitamente, per le esigenze del comando della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine operanti sul territorio, un prodotto che consente l'elaborazione dell'autocertificazione elettronica nel rispetto delle normative riguardanti la privacy. Sentiamo. Abbiamo posto fine a una delle barzellette, diciamo, oramai più in voga in Italia, le autocertificazioni. Abbiamo pensato di utilizzare questa tecnologia, peraltro grazie alle nostre eccellenze. C'è dei ragazzi tranesi che ci hanno praticamente costruito questa app, in che cosa consiste? Praticamente in un'autocertificazione che può essere riconosciuta dalle forze dell'ordine, che ringrazio perché di fatto hanno aderito a questa iniziativa del comune, con il query code, per cui di fatto praticamente nessun cartaceo, tutto attraverso gli smartphone, non diventa assolutamente anche molto più rapido da verificare, da controllare, perché attraverso la lettura del codice di fatto si immagazzina direttamente l'autocertificazione attraverso quelle che sono praticamente a livello informatico. Certamente questo non significa che si potrà barare attraverso la tecnologia, tutt'altro perché poi quelle autocertificazioni verranno verificate, verranno controllate, che saranno soggette a controllo e quindi eventualmente anche a sanzione. Io mi auguro di no, perché mi auguro soprattutto di trovare nelle zone rosse, nei giorni di zona rossa, una città assolutamente tranquilla e sotto controllo. Praticamente abbiamo eliminato il cartaceo, è molto semplice perché il cittadino lo può compilare direttamente sul suo smartphone, una volta che viene fermato lo esibisce e noi attraverso l'applicazione riscontriamo direttamente l'autocertificazione, la acquisiamo e viene quindi incorporata all'interno del comando. Questa è la funzionalità, quindi eliminiamo il cartaceo, eliminiamo anche i contatti e quindi minor contatto, minor rischio anche da parte degli operatori. L'applicazione funziona in maniera molto semplice, è stata fatta per chiunque, qualsiasi target di persone, viene aperta, ci si registra, si inseriscono le credenziali e dopodiché in prima pagina si ha la creazione dell'autocertificazione. L'autocertificazione funziona esattamente come funzionerebbe l'autocertificazione in maniera cartacea, nel senso che si compila il foglio, si accettano le politiche della privacy e tutto quello che abbiamo già inserito e una volta fatto questo si firma in maniera da autenticare l'autocertificazione.